Contropiede dell'Udinese, Suryak fugge verso la porta, Gentile lo ferma così, Causio due rigori sbagliati facendo alla panchina, batte digno ed è rete, ed è una finta di stinto di Suryak, eccola, a propiziare il gol, Gentile fermo, Onofri tocca appena e Tesser ha compito facile nella raddoppiata, secondo tempo, il Genoa batte 10 calci d'angolo contro uno dell'Udinese, dominio incontrastato, intelligente e bello scambio Onofri-Briaschi, pallone, si buttano assieme Antonelli e Golparoli, è autogol, 2 a 1 per l'Udinese, ma mentre il Genoa potrebbe raggiungere il 2 a 2, Antonelli ha sprecato una grossa palla, su questa punizione di Causio, Orazzi ci mette un pallonetto Beffardo, è 3 a 1, KO quasi per il Genoa, che ottiene sul finire un calcio di rigore, Tesser su Boito, batte Iachini, risultato per l'Udinese, gioia per Ferrari.